Ieri, oggi e domani si intrecciano con successo in un nuovo progetto. Feltre si candida ad hub archivistico per la provincia. L'idea è stata presentata a Palazzo Bianco in un incontro durante il quale si è posto l'accento sulla necessità di innovazione per l'archivio di imprese, dunque per la trasmissione e digitalizzazione di una grande quantità di informazioni, ma anche per la loro consultazione. Il centro svolgerà le sue attività in due settori fondamentali, quello appunto della cultura d'impresa e quello della tutela, della valorizzazione e gestione del patrimonio industriale. Si cerca di creare uno spazio che possa contenere tutti quanti i documenti e le necessità che riguardano per l'appunto un archivio storico legato all'industrializzazione del nostro territorio. Dopo una lunga analisi della storia dell'industrializzazione bellunese, si è chiarito l'impatto del problema archivistico, soprattutto per le passate testimonianze delle imprese bellunesi. Fondamentale diventa quindi sviluppare una zona adatta in cui tradizione e innovazione si mescolino. Duplice sede, quella per le attività di carattere più culturale, istituzionale a Palazzo Borgasio, e quella invece relativa alle lavorazioni del materiale archivistico che ha la loro, la sua conservazione nella sede dell'ex caserno. Nel frattempo continuano i lavori per l'anima produttiva del Feltrino, Villa Paiera. Entro la fine dell'anno vediamo di fare il cambio delle strade, che è la cosa fondamentale. Novembre e dicembre speriamo di fare il primo passaggio in adozione anche del piano intervento dell'area industriale. L'ambizione per l'archivio è quella di creare un centro di riferimento che vada ben oltre i confini della provincia, grazie a competenze avanzate anche sul piano internazionale. Con un impegno collettivo tra imprese e territorio, l'archivio permette sinergia e sicurezza. Appendice al progetto è anche la volontà di reinventare il turismo industriale, così da diversificare l'offerta turistica del territorio.